E' il mio Doris, presidente di Banca Mediolanum per affari italiani. Oggi presentate Casa della Consulenza Mediolanum qui a Milano. Ecco, in cosa consiste questo progetto del vostro gruppo? Ma guardi, il nostro nome Mediolanum è il nome latino di questa straordinaria città. E quindi noi non potevamo avere una nostra presenza nel centro di questa città che è l'origine di tutta la nostra avventura. Noi ci chiamiamo Banca Mediolanum. E quindi abbiamo scelto questo palazzo in centro a Milano dove ci sono cinque piani, tre occupati tutti dai nostri family banker che sono a disposizione della clientela per guidarla nelle loro scelte. Naturalmente questi tre piani sopra sono solo un punto di riferimento perché il nostro modo di operare è portare la banca in casa del cliente non solo attraverso la tecnologia come fanno tutte le banche online quindi computer, iPad, telefonino, soprattutto gli smartphone con i quali ormai si fa tutto ma portare in casa del cliente anche la banca attraverso il suo direttore quello che una volta potrebbe essere il direttore di filiale per risolvere i problemi più complessi per i quali il cliente ha bisogno di confrontarsi con un esperto che lo ascolta, ascolta le sue ragioni e poi gli suggerisce le soluzioni più adatte. Quindi abbiamo voluto fare questo che è il centro della consulenza nel centro di Milano che è la nostra città.